Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono Amor e vi sto parlando da Torino. Un saluto a tutta la comunità senegalesa, africana e tutta la diaspora che vive sul territorio italiano. Ma faccio un applauso forte a tutti i follower che si stanno sempre seguendo sui nostri canali YouTube e Facebook. Ragazzi, prima di tutto vi chiedo scusa perché siamo rimasti praticamente un mese senza aggiornarvi, dovuta ai impegni con il lavoro. Purtroppo dobbiamo saltare una settimana o due settimane per poter aggiornarvi, perché siamo molto impegnati con il lavoro. Avrei voluto ragazzi, avrei voluto sempre stare qui ad aggiornarvi, a darvi le ultime novità, ma purtroppo in questi periodi sono molto impegnati con il lavoro, ma cercherò sempre di starvi vicino, di darvi novità e di darvi anche gli ultimi aggiornamenti in merito ai decreti Covid, aiuti, ma anche agli ultimi novità che accade qui in Italia. Oggi parleremo di diverse cose nell'ambito dei decreti aiuti, ma anche dei sossegni per le famiglie, per le imprese. Ma prima di tutto faccio un auguro di buon anno 2022 a tutti quanti. Vi auguro un buon anno di 2022 a tutti quanti, a tutta la comunità senegalese, africana, tutta la diaspora e spero che 2022 sia l'anno di pace, di lavoro, di serenità, ma anche di ripresa per l'economia italiana e spero anche che nel 2022 il Covid, ma anche tutti questi varianti vanno via per sempre dell'Italia e che possiamo ritrovare la serenità, la pace, ma anche il rilancio che avevamo conosciuto dall'Italia. Vi chiedo scusa e cercheremo di aggiornarvi oggi su tanti punti. Prima di tutto ragazzi c'è un breaking news, come si dice in inglese, l'ultima novità. L'ultima novità col governo Draghi è che il governo sta preparando un altro decreto ristori, come ha fatto sempre per aiutare le famiglie, le famiglie, le imprese, ma anche i lavoratori danneggiati. Quindi parleremo di un altro decreto ristori che il governo sta avvarando. Quindi possiamo dire spunta all'orizzonte un altro decreto ristori, come abbiamo sempre conosciuto, un decreto che aiuta i lavoratori stagionali, prima di tutto, intermittenti, caricati alle vendita porta a porta. Quindi i lavoratori o cargionali, ma anche si potrebbe essere anche la proroga del REM, la proroga pure anche della casa di integrazione, ma anche dei bonus fondo perduto. Oggi cercheremo a chiarire tutto questo su questo video. Sono tante novità pure anche in merito ai lavoratori agricoli, la NASPI secondo la legge di bilancio 2022, ma anche delle novità sul reddito di cittadinanza e l'assegno unico, figli, troppo e stagione e invigorata nel primo anno di gennaio 2022. Certo che ci sono le giornali di tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti i nostri ho amati, siamo tutti i nostri amici i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Uno è chavata, con la chiamata che fa la dogma in Italia, ha che si bello la pietra di Parpo, il fatto una pagare, come si era sicuro che se tiene iniziato a filo durante l'Unione del Pettico. La tua pagare è stata anche un'execchiaire, e ciò che forma più grande attraversa. Ci sono una trentossa all'elita in Italia Questa città Aristolo è stata arrivata dal giornale. Quello che si sape la pagare in Italia Il decreto di ristori che si avessero il decreto di ristori che si avessero il decreto di ristori per la vendita di S.A. Grazie a tutti i nostri amici.